che fregatura che fregatura che fregatura ebbene sì mi hanno fregato amici saper fare eccoci ancora con un altro video stavolta un video informativo per avvisarvi di una fregatura effettivamente che ho preso io su ebay acquistando questi moduli alimentatori non dico il negoziante perché il negoziante non fa altro che acquistare e rivendere e quindi non non c'entra nulla su questo problema sono dei moduli alimentatore da ingresso a 220 volt direttamente la 220 con uscita 5 volt ben 700 mini ampere di corrente dichiarati da appunto dal costruttore ebbene sono abbastanza diciamo interessata ad acquistarli ne ho acquistati 5 di questi moduli perché volevo costruire assieme alla sp01 di arduino il wifi con il relais evazione vocale per accendere e spegnere delle luci ebbene quando ho montato tutto quanto sul circuito elettronico sulla base insomma su un contenitore ho notato che dopo circa qualche paio di minuti questo modulo riscaldava così tanto addirittura in stand by cioè quantomeno potevo capire il consumo eccessivo quando il relais si eccitava nel comando on off ma invece riscaldava tantissimo addirittura anche a riposo e quindi ho pensato magari a un modulo difettoso ne ho preso un altro li ho provati tutte e cinque tutte e cinque hanno lo stesso problema qual è il problema che realmente non arrivano a 700 mini ampere di corrente ma bensì non arriva nemmeno quasi a 300 mili ampere e quindi riscalda parecchio questo modulo e non permette appunto di far funzionare il sp01 collegato al relais e quindi che cosa succede si accende si spegne si accende si spegne si riscalda tanto e per paura appunto che magari il modulo potesse andare in corto oppure prendere fuoco ho dovuto staccare la spina e quindi ahimè accettare la fregatura che ho avuto anche se sono costati davvero poco circa 250 addirittura in italia figuriamoci in cina quanto costerebbe un modo del genere però purtroppo devo dirlo è stata una fregatura quindi se dovete acquistare questo modulo vi consiglio di acquistarlo solo se dovete utilizzarlo per piccoli assorbimenti che non supera addirittura i 101 ampere diversamente vedrete che dopo parecchi minuti che acceso riscalderà davvero così tanto e inizierà poi a far spegnere accendere il circuito elettronico e collegherete appunto all'uscita dei cinque volte spero che voi non prendiate la sola che ho preso io con questi alimentatori state attenti magari ci sono degli alimentatori che hanno un ampere in uscita anziché 700 miliampere o addirittura anche più di un ampere acquistate quelli e speriamo che magari anche quelli non siano la sola che ho avuto io vi invito ad iscrivere il nostro canale youtube saper fare per essere sempre informati anche di queste cose e se non l'hai fatto attiva la campanellina appunto per essere aggiornati dei nuovi video ciao a tutti